Il dossier autostrade sul tavolo del governo, domani il consiglio dei ministri deciderà sulla revoca della concessione che alimenta tensioni nella maggioranza. Il presidente del consiglio ha espresso un giudizio severo sulle proposte della società in un'intervista al fatto Conte giudica impraticabile la partecipazione di società pubbliche nell'azionariato di Aspi senza l'uscita definitiva dei Benetton. E i titoli della Galassia Atlantia precipitano a Piazza Affari. Sulla proroga dello stato di emergenza, braccio di ferro tra maggioranza e opposizione, il governo potrebbe stenderlo non più fino a dicembre ma al 31 ottobre. Il centro-destra chiede prima di tutto che siano rispettati i passaggi parlamentari. Durissimo Salvini che ritiene insensata una proroga. Faremo di tutto per impedirla. La vera emergenza è sociale ed economica. Nella settimana decisiva per il Recovery Fund si susseguono le trattative per trovare un accordo sui fondi per i paesi europei più colpiti dalla pandemia in vista del vertice europeo di venerdì. Nel pomeriggio Conte vedrà la cancelliera Merkel. Il premier sarebbe pronto a rinunciare a una fetta di risorse pur di evitare le condizionalità che chiedono i cosiddetti paesi frugali. In Polonia il presidente uscente Duda è stato rieletto con il 51% dei voti nel ballottaggio con lo sfidante il sindaco di Varsavia Traskoski. Una vittoria ottenuta con un lieve vantaggio ma che consente alle forze conservatrici e nazionaliste di proseguire nella linea euroscettica. Ad Amantean Calabria il Viminale ha inviato i militari a sostegno delle forze dell'ordine per evitare disordini dopo i blocchi e le proteste contro il trasferimento nelle strutture locali di un gruppo di migranti positivi al covid. A Trieste è vertice dei ministri degli interni di Italia, Spagna, Germania, Malta e alcuni paesi africani. L'obiettivo è rafforzare l'impegno comune contro i trafficanti di esseri umani, ha detto la ministra Lamorgese. Si accentua il declino demografico del paese. A fine 2019, fa sapere l'Istat, la popolazione residente risulta inferiore di quasi 189 mila unità a causa di un nuovo minimo storico di nascite dall'unità d'Italia, meno 4,5%. Un lieve aumento dei decessi e più cancellazioni anagrafiche per l'estero cala il numero di stranieri mentre prosegue l'emigrazione degli italiani. In cinque anni il paese ha perso 551 mila residenti. Stasera si completa il calendario della 32esima giornata della Serie A con l'Inter che contro il Torino cerca il successo per agguantare la Lazio al secondo posto. In Formula 1 dopo il disastro nel Gran Premio di Stiria, in casa Ferrari tutti al lavoro per raddrizzare già dal Gran Premio di Ungheria in programma domenica prossima una stagione tremendamente a rischio. Una buona giornata e una buona settimana dal telegiornale della Sette. Una settimana sicuramente importante per i destini italiani e dunque particolarmente impegnativa per il Presidente del Consiglio, Conte, che innanzitutto con una serie di interviste a diverse testate giornalistiche ha chiarito qual è il punto e la questione sull'attrottativa, la battaglia sulle infrastrutture ma soprattutto la possibilità di revoca per quel che riguarda Aspi. Ha usato parole molto dure il Presidente del Consiglio a segnare una decisione proprio a un attimo dalla deadline, perché domani la decisione sulla revoca arriverà dal Consiglio dei Ministri e dunque non restano molte vie d'uscita alla famiglia Benetton. Cominciamo da qui. Lo Stato non può essere socio di chi prende in giro le famiglie delle vittime. Basta una frase, ma è solo una delle tante, per descrivere il conto e pensiero sulla famiglia Benetton e di riflesso sulla questione autostrade, dove il traffico di polemiche sembra sul punto di impazzire, con la parola revoca che torna prepotentemente a volteggiare e il titolo di Atlantia, la società che controlla l'88% di Aspi, a precipitare in borsa in doppia cifra. Mai il Presidente del Consiglio aveva espresso con tale fermezza la sua posizione come stamattina sul Fatto Quotidiano, perché non è più questione di quote, di tariffe, di risarcimenti, non è solo il giudizio sulla proposta di Aspi, ampiamente insufficiente per non dire imbarazzante, è proprio il no radicale all'ipotesi che lo Stato possa essere socio dei Benetton. Non hanno ancora capito che questo Governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull'altare dei loro interessi privati, dice Conte. Sarebbe davvero paradossale se lo Stato entrasse in società con loro. Molto meno paradossale è il fatto che le parole del Presidente del Consiglio, in linea con la posizione dei Cinque Stelle, provochino impennate nella sua stessa maggioranza, agitando le acque e allargando ulteriormente quel fossato che separa il movimento dagli altri soci di governo. Non solo Italia Viva, fin dall'inizio la più conciliante con Atlantia, ma anche con una buona parte del PD, con la parola revoca che piace invece all'EU e anche sul fronte opposto a Fratelli d'Italia. Mi pare che l'ultima proposta depositata da Aspi sia un indubbio passo avanti, dice per esempio il capo dei senatori Marcucci, che ipotizza tutt'al più eventuali ulteriori limature, mentre Piercarlo Paduan dà implicitamente a Conte dell'impulsivo o anche del superficiale. Bisognerebbe separare emotività e politica dagli aspetti tecnici, dichiara l'ex Ministro dell'Economia. Bisognerebbe fare uno sforzo e separare i due aspetti per dare un giudizio significativo. Ce n'è abbastanza per immaginare che a dispetto del principio condiviso a parole da tutti del primato dell'interesse pubblico, il Consiglio dei Ministri, previsto per domani, tutto sarà meno che una passeggiata, lo si può intuire anche dalle parole del sottosegretario dell'Economia, il pentastellato Villarosa. Abbiamo dieci Ministri dei Cinque Stelle, quindi non può passare, a meno che qualcuno dei Ministri dei Cinque Stelle voti a favore della non-revoca, quindi contro la revoca. Allora, andiamo avanti parlando dell'altro aspetto importante che finisce naturalmente per scadere domani, 14 luglio. Dunque c'è tutto un pacchetto di misure che vanno in qualche modo prorogate, ma poi c'è anche uno Stato di emergenza che invece riguarda tutto il nostro Paese su cui molto si è discusso da quell'annuncio di Conte, poi smentito nei termini che poteva portare addirittura allo Stato di emergenza fino a fine anno. Adesso balla una data intermedia, ma soprattutto il senso di questo Stato di emergenza. Poco fa il Ministro Boccia ha detto che non limita la libertà, ma consente allo Stato di proteggere in miglior modo i cittadini, ma quel che più sta a cuore delle opposizioni è senza dubbio il rispetto di tutti i passaggi parlamentari. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, si presenterà domani davanti alle Camere per illustrare i contenuti del nuovo DPCM sulle misure anti-Covid che scadono domani e che saranno prolungate fino a fine mese. È probabile che il Parlamento non si lascerà sfuggire l'occasione per aprire il dibattito anche sulla proroga dello Stato di emergenza che scade il 31 luglio, annunciata da Conte, sulla quale si è aperto un duro scontro con le opposizioni, che rimarcano il ruolo centrale del Parlamento e non hanno alcuna intenzione di concedere al Premier un altro periodo di poteri speciali. Tanto che il Governo sta valutando l'ipotesi di prolungarlo fino al 31 ottobre e non fino a fine anno, come ipotizzato in un primo momento. Ma anche questo compromesso viene bocciato. Non risolve i problemi, fa sapere la capogruppo azzurra al Senato, Anna Maria Bernini, mentre Matteo Salvini annuncia che farà di tutto per bloccarlo e interverrà personalmente a Palazzo Madama contro la proroga del Governo, con una risoluzione ad hoc. I numeri dicono che la situazione è sotto controllo, non ha nessun senso prorogare lo Stato di emergenza sanitaria, semmai l'emergenza sociale ed economica attacca il leader della Lega. Al momento però nessuna decisione è stata ancora presa per la proroga. Serve infatti una delibera del Consiglio dei Ministri Conte ha già chiarito che prima di firmarla riferirà in Parlamento. L'occasione per chiedere chiarimenti al Premier si presenterà dopodomani, quando Conte andrà in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di venerdì e sabato prossimi. Il voto delle Camere sullo Stato di emergenza non è comunque previsto in quel contesto, che sarà invece dedicato al dibattito su Recovery Fund, sul quale è invece previsto il voto. La maggioranza presenterà una sua risoluzione, che dovrebbe essere molto vaga sul MES, argomento bollente che il Governo vorrebbe rimandare in autunno dopo l'accordo sul Recovery Fund e sul quale le posizioni delle forze politiche sono chiare e trasversali. Per il no al suo utilizzo, i 5 Stelle, la Lega e i Fratelli d'Italia. Per il sì, il PD, Italia Viva, l'EU, Forza Italia e più Europa. Con Emma Bonino, determinata ad andare fino in fondo sul MES, mercoledì, presenterà infatti in Senato una risoluzione per impegnare il Governo ad aderire al Fondo Salva Stati. Un voto che preoccupa la maggioranza al lavoro in queste ore per trovare un escamotage per aggirare il problema, che non è l'unico. Sul tavolo c'è anche il dossier sul rinnovo delle presidenze delle commissioni permanenti di Camere e Senato, molte ancora a Guida Lega, che si voteranno sempre mercoledì e l'intesa ancora non c'è. L'abbiamo sentito anche in un accenno nel servizio, è sicuramente una settimana importante per capire anche in che direzione andranno le trattative europee. Al termine di questa settimana forse sapremo qualcosa in più sulle risorse messe a disposizione per i paesi più duramente colpiti dalla pandemia, ma anche quel che più sta a cuore del Presidente del Consiglio sulle condizioni per ottenere quelle risorse. È su questo che si spende anche personalmente la trattativa del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo di venerdì, ma anche fin dal faccia a faccia di oggi importante. Quella che potrebbe essere la settimana decisiva sulla strada dell'approvazione del Recovery Fund, che culminerà nel vertice di venerdì e sabato prossimi, per il Premier Conte si apre con la visita a chi ha appena assunto la presidenza di turno dell'Unione europea. Non un leader qualsiasi, ma colei che, per ruolo politico del suo paese e capacità di mediazione, è destinata ad essere il fulcro del negoziato la cancelliera tedesca Merkel. I due capi di governo si incontreranno nel pomeriggio a Berlino, quarta tappa del tour europeo prevertice del Presidente del Consiglio dopo Lisbona, Madrid e Laia. Giovedì, il giorno prima del summit, Conte dovrebbe poi vedere il Presidente francese Macron. Si tasta un terreno che le divisioni tra paesi mediterranei e cosiddetti frugali rendono particolarmente friabile, come hanno anche dimostrato le dichiarazioni tutt'altro che concilianti del cancelliere austriaco Kurz. Sarebbe negligente non chiedere a Roma come spenderà i soldi del recovery fund, ha affermato ieri, per poi aggiungere in Italia diversi programmi di sostegno europeo non hanno portato il risultato sperato. Parole che fanno il paio con quelle del primo ministro olandese Rutte sulla necessità di legare a doppio filo l'esborso del denaro a precise riforme. Un controllo che sarebbe sicuramente più ferreo se passasse la proposta del Presidente del Consiglio europeo Michel, che attribuisce alla maggioranza qualificata del Consiglio, dunque ai governi e non alla Commissione, il compito di approvare i piani di rilancio dei singoli paesi. Ed è sicuramente questo uno degli aspetti critici della mediazione Michel, sottolineati da Conte, il quale, secondo alcune ipotesi, potrebbe anche prospettare nell'incontro di Berlino la possibilità che l'Italia accetti un fondo un po' più snello rispetto ai 750 miliardi fin qui prospettati, riduzione sulla quale i frugali insistono insieme all'aumento della quota di prestiti rispetto a quella delle sovvenzioni a fondo perduto, purché però il potere decisionale torni alla Commissione. Il negoziato, tuttavia, rimane difficilissimo e la possibilità di un altro vertice entro fine mese per giungere ad un'intesa definitiva molto concreta. Di sicuro il recovery fund è una necessità impellente, come dimostrano tutte le analisi economiche ultime, quelle del Fondo Monetario Internazionale, secondo il quale il PIB continentale quest'anno si contrarrà del 9,3% e sarà necessario aspettare il 2022 per tornare ai livelli pre-Covid. Questa è una notte di incertezza, ma soprattutto poi di conteggio e questa mattina di conferme per quel che riguarda i cittadini polacchi, cittadini polacchi che confermano nelle presidenziali il presidente Duda di destra e populista, ma la conferma è soprattutto quella di un paese spaccato, di fatto a metà un'affluenza che non ha precedenti storici, nel senso che i cittadini polacchi hanno scelto di esprimersi e dividersi su scelte davvero antitetiche dei due candidati. È ufficiale la vittoria di Andrzej Duda, che ottiene un nuovo mandato come presidente polacco con il 51,21% dei voti. Si ferma poco sopra il 48, lo sfidante Rafał Traszkowski. Duda, già in carica dal 2015, è sostenuto dal partito conservatore Diritto e Giustizia, fondato nel 2001 dai gemelli Kaczynski e dall'attuale governo del premier Mateusz Morawiecki. Lo sfidante, già sindaco di Varsavia, invece è un esponente di piattaforma civica, il partito liberal europeista vicino a Donald Tusk, ex presidente della Commissione Europea. Risultato dunque che allontana ulteriormente Varsavia da Bruxelles e conferma la linea conservatrice dell'attuale governo. Vantaggio però molto limitato per Duda e paese spaccato a metà. La Polonia si è divisa, titola il principale quotidiano polacco, Gioia Spospolita. Duda, infatti, stravince all'est e nelle campagne, mentre il suo sfidante si impone nelle grandi città e nelle zone al confine con la Germania. A favore del presidente uscente si è schierata anche la chiesa polacca. L'arcivescovo di Cracovia, Giedraszewski, ha lanciato nei giorni scorsi un appello ai fedeli. Scegliete chi segue i valori cristiani. Duda, infatti, ha insistito duramente tutta la campagna sui valori cristiani e tradizionali, mentre lo sfidante Trascovski si è dimostrato più sensibile ai problemi della comunità LGBT e ha affrontato pubblicamente altri temi problematici per la chiesa, come l'aborto. Altro tema cruciale nella campagna, quello dei migranti. Duda, infatti, è stato tra i premier più convinti nel rifiutare il sistema di quote voluto da Bruxelles durante il picco della crisi migratoria e sbattere di fatto la porta in faccia a quei paesi, tra cui l'Italia, che chiedevano sostegno nella ridistribuzione degli arrivi. Proteste dall'opposizione sul risultato. Piattaforma civica fa sapere di aver raccolto informazioni su alcune irregolarità nel voto e tra l'entourage dello sfidante si fa strada l'ipotesi di un ricorso alla Corte Suprema. Allora, era in programma una nuova udienza del Tribunale egiziano. La questione è ancora quella, la vicenda giudiziaria relativa a Giorgio Zaki, lo studente dell'Università di Bologna, detenuto in Egitto da febbraio con l'accusa di propaganda sovversiva. Dunque, per Patrick Giorgio Zaki è arrivata la notizia poco fa, ancora la detenzione. Altri 45 giorni, dunque, come nei casi precedenti, un'ulteriore proroga, nonostante in questo caso per la prima volta i suoi avvocati sono potuti entrare in aula e spiegare quelle che sono le ragioni dal loro punto di vista di 157 giorni di detenzione arbitraria. Ma non c'è stato nulla da fare, Zaki non era presente in aula. Le reazioni stanno arrivando, è la più forte, quella di Amnesty International, che parla di una decisione shock e inumana. Andiamo adesso avanti, una emergenza che riguarda il nostro territorio, le nostre coste. Per esempio, un'isola come quella di Lampedusa, che numero alla mano, ha dovuto fare i conti con almeno mille sbarchi nell'ultimo weekend. Ma non c'è solo un'isola per la quale il governatore siciliano chiede lo stato d'emergenza, c'è anche la Calabria in difficoltà perché ha gli sbarchi e si somma anche l'emergenza sanitaria da gestire con difficoltà le risposte del governo e il cambio di rotta sta arrivando proprio in queste ore. Alla fine arriverà anche l'esercito. Dopo una domenica di blocchi stradali, tensioni, proteste, a Damantea, in provincia di Cosenza, il Viminale ha deciso di schierare i militari. Da stasera vigileranno 24 ore su 24 sui 13 migranti bengalesi risultati positivi al coronavirus e ospitati al momento in una struttura di accoglienza della cittadina calabrese. Le forze dell'ordine sono già lì in presidio per evitare i disordini e garantire che tutto fili liscio. I profughi, tutti asintomatici, fanno parte di un gruppo di 70 persone soccorse in mare tra venerdì e sabato scorso a largo di Rocella Ionica, poi collocati in strutture tra Mantea, Bova e Rocella, dove sono rimasti 5 minori positivi al covid ospitati in albergo. Il governo nel frattempo si muove anche su altri due fronti. Il primo, logistico. Il Ministero dell'Interno insieme a quello dei trasporti punta a requisire con una procedura d'urgenza un nuovo traghetto come seconda nave quarantena oltre alla Mobisasa, ormeggiata a Porto Empedocle. Altri spazi dove porre in quarantena i migranti, si pensa alle caserme. Sul piano internazionale invece la Ministra dell'Interno, la Morgese, ha chiesto la collaborazione dell'Unione Europea nel vertice di stamattina a Trieste con i suoi omologhi di Spagna, Francia, Germania, Malta e di alcuni paesi africani. Una presenza importante per il dialogo sull'emergenza migranti. Abbiamo rafforzato l'impegno comune contro il traffico dei migranti, ha detto la Morgese. Sì, perché gli sbarchi pongono il problema di possibili focolai covid di importazione. Timori che ieri hanno acceso gli animi in Calabria con la Presidente Iole Santelli che ha lanciato l'out-out a Conte e ha minacciato di chiudere i porti. Servono risposte immediate o dopo il lockdown il turismo crollerà, tonato la governatrice. E proteste che non si placano. La rabbia dei cittadini, scesi ieri in presidio in autostrada, ha lasciato il posto oggi a un sit-in di fronte al comune del paese. I cittadini che hanno voluto incontrare gli amministratori locali respingono le accuse di intolleranza. Non è una questione assolutissimamente di razzismo, perché a Mandea l'ho dimostrato nel passato, abbiamo accolto tantissime persone, circa 500. Adesso la situazione è diversa, si tratta di covid-19, quindi siamo un po' tutti all'elto. Intanto a Lampedusa in quattro giorni sono sbarcati più di mille migranti. Sono stati quasi 9.000 quest'anno, fa sapere il Viminale. Il triplo rispetto allo scorso anno. Il picco proprio questo fine settimana, con i trafficanti che alzano il prezzo. Complice anche il blocco dei voli per l'Italia per le misure anti-covid. Questo è il presente, non si dimentica il passato, il recentissimo passato che ha colpito in termini di morti da covid alcune comunità in modo più pesante di altre. Pensate quella di Brescia e Bergamo, insieme fanno 11.000 vittime e dunque i parenti delle vittime si rivolgono direttamente al Presidente della Commissione Europea per capire se ci sono state delle negligenze e per vigilare sulle inchieste che ancora ci riportano alla gestione dell'emergenza sanitaria in Lombardia. Anche dai numeri di ieri un terzo dei casi arriva da quella regione, ma lo sappiamo che adesso bisogna lavorare su questo nuovo pacchetto di misure. Alcune confermate, altre che saranno più rigide per scoraggiare comportamenti poco corretti. Ancora è troppo presto per allentare le misure di sicurezza, continuare a seguire la linea della prudenza, dice il Ministro della Salute Roberto Speranza che presenterà il nuovo DPCM domani 14 luglio, giorno in cui scadranno i provvedimenti varati l'11 giugno scorso. La proposta del Ministro è la proroga fino al 31 luglio di rafforzamento delle misure restrittive fondamentali per arginare la pandemia, mascherina obbligatoria e distanziamento. Resta il divieto per discoteche, si potrà ballare solo all'aperto, ieri solo nel Lazio. I carabinieri hanno effettuato 5.000 interventi ed hanno chiuso 10 locali su 150 controllati. Ancora vietate fiere, congressi e sagre di paese. Su queste ultime sono i presidenti di regione a decidere, proprio per la diversa diffusione sul territorio del Covid-19. Il Ministro della Salute conferma l'obbligo della mascherina in tutti i luoghi pubblici, compresi musei, cinema e teatri. E sui mezzi di trasporto, per ristoranti e palestre, la mascherina va usata sempre all'entrata dei locali. All'aperto resta obbligatoria solo in Lombardia. E proprio dalla regione più colpita dal virus arriva la richiesta del comitato noi denunceremo all'Unione Europea di vigilare su tutte le indagini in corso in Lombardia sulle morti per il virus perché, secondo i parenti delle vittime, potrebbero esserci gli estremi per il reatto di crimini contro l'umanità. Nel nuovo DPCM verranno rafforzati anche i controlli sulle spiagge per evitare assembramenti ed anche nei locali pubblici, bar, pasticcerie, parrucchieri e centri estetici, chi non rispetterà il distanziamento e non avrà la mascherina sarà multato mentre i gestori rischiano la chiusura temporanea dei locali ed il ritiro della licenza. Bisogna usare prudenza perché, anche se lievemente, risalgono i contagi in Italia, 234 nelle ultime 24 ore, di cui 77 in Lombardia, 9 i decessi. E la paura dei contagi di importazione fa sì che il ministro Speranza confermi il divieto di ingresso perché arriva dai 13 paesi ancora sotto i coefficienti minimi di sicurezza sull'incidenza del virus. Anche chi rientra dagli USA deve osservare la quarantena. Oggi riapre l'aeroporto milanese di Linate, un'apertura ancora solo formale. Per i voli di linea, infatti, bisognerà aspettare altri due giorni. Restiamo a Milano, un'operazione della Guardia di Finanza. Vediamo i dettagli. Un settore, quello che abbiamo imparato a conoscere, davvero redditizio, esposto alle infiltrazioni, in questo caso Degandrangheta. Ci sono cinque arresti, uno ha fatto particolarmente rumore. Il settore dello smaltimento rifiuti si conferma una delle vie privilegiate per l'infiltrazione dell'Andrangheta al nord. L'ultimo tassello è un'operazione della Guardia di Finanza, con i carabinieri forestali di Milano, che stamattina ha portato a cinque arresti. Tra questi c'è anche un consigliere comunale di Busto Arsizio, Paolo Efrem, accusato di fatturazioni false e agevolazione delle cosche. Per parte paterna, Efrem proviene da una famiglia eritrea in vista. Nel paese africano, il nonno è stato ministro, così come lo zio. Per la DDA di Milano, il consigliere si è però avvicinato all'andrina locale dell'Andrangheta, che fa capo a Vincenzo Rispoli, storico esponente della mafia calabrese detenuto al 41 bis nel carcere di Opera. Nessun reato ambientale questa volta, ma l'indagine è la coda di un'inchiesta che aveva portato a 11 arresti in Lombardia per traffico illecito di rifiuti e a un sequestro da un milione e mezzo di euro a fine 2019. Proprio in quella occasione, le rivelazioni di un imprenditore lombardo, titolare di un impianto di trattamento rifiuti a Como, in cui l'Andrangheta era infiltrata da tempo, hanno permesso di ricostruire un contesto di minacce e distorsione che durava da quattro anni e ha portato agli arresti di oggi. L'imprenditore, minacciato di morte, era stato costretto ad assumere il genero di Rispoli e a emettere fatture a vantaggio di Paolo Efrem per prestazioni inesistenti che servivano a far arrivare denaro alle cosche. Almeno 100.000 euro in un anno, secondo la DDA, che sarebbero serviti anche a pagare le trasferte al nord dei familiari di un altro boss, Silvio Farao, detenuto al carcere duro a Novara. In questi viaggi Efrem, che di mestiere fa l'allenatore di calcio ed è subentrato nel 2018 in Consiglio Comunale a Bussuarsizio, al posto di un altro consigliere eletto in una lista di centrodestra, avrebbe fatto anche da autista e prestanome per esponenti del clan. La fotografia che arriva puntualmente dall'Istat che riguarda il nostro paese, in questo caso il bilancio, per così dire, anagrafico, si continua a morire di più di quanto si nasce, ma ha un altro elemento con una tendenza piuttosto evidente, si continua a emigrare, a lasciare l'Italia piuttosto che arrivarci. Il calo delle nascite è davvero con pochi precedenti storici. Natalità al minimo storico dai tempi dell'Unità d'Italia e questa l'ultima fotografia scattata dall'Istat sul nostro paese. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, infatti, il record negativo di nascite già registrato nel 2018 è stato superato dai dati del 2019. A contribuire al calo delle culle, alcuni fattori ormai noti, a partire dalla progressiva riduzione della popolazione italiana in età feconda. Generazioni sempre meno numerose alla nascita a causa della denatalità in rialzo dalla seconda metà degli anni 70 e non più incrementate da significativi ingressi di giovani immigrati. Nel 2019 gli iscritti all'anagrafe per nascita sono stati 420.170 con un abbassamento di oltre 19.000 unità sul 2018, corrispondente almeno 4,5%. Un calo questo più accentuato al centro, dove si attesta almeno 6,5%. In flessione il contributo delle nascite fornito dalle donne straniere che si sta riducendo di anno in anno con una costante diminuzione degli stranieri nati nel nostro paese. Lo scorso anno in Italia hanno rappresentato il 15% del totale delle nascite con una riduzione di 2.500 unità rispetto al 2018, meno 3,8%. La percentuale di bambini stranieri sul numero complessivo dei nati è più consistente nelle regioni a più alta presenza straniera, con due opposti. Il 25% dei nati in Emilia Romagna è straniero, mentre in Sardegna solo il 4,3%. Il report sul bilancio demografico nazionale evidenzia una riduzione di cittadini stranieri che arrivano in Italia, meno 8,6%. Parallelamente non si arresta la crescita delle emigrazioni di cittadini italiani. Nel 2019 hanno scelto di trasferirsi all'estero in 126.000, più 8,1%. In pratica in 5 anni abbiamo perso oltre mezzo milione di residenti. Tranne che nella provincia autonoma di Bolzano sono ovunque meno nascite e più decessi. Nel 2019 il saldo naturale, la differenza tra nati e morti, è stato di meno 214.000 unità. Il tasso di natalità del complesso della popolazione residente è pari al 7,0 per mille. Il primato è della provincia autonoma di Bolzano, 9,9 per mille. In fondo alla lista Liguria e Sardegna. Un quadro questo che, ragionevolmente, secondo le simulazioni, potrebbe peggiorare nel periodo post-Covid per effetto della pandemia e dell'incertezza occupazionale. Tra il 2020 e il 2021 potrebbero nascere 10.000 bambini in meno. E poi c'è la situazione del Covid nel mondo. Sappiamo che la circolazione del virus non ha la stessa velocità in ogni angolo del pianeta, ma l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità resta un nuovo record nei casi dell'ultimo giorno, un quarto dei quali arriva ancora dagli Stati Uniti. In quel paese Donald Trump, il presidente americano, si è reso visivamente, almeno in pubblico, all'uso della mascherina. Ma questo non cambierà probabilmente la storia della gestione del contagio sul territorio americano. Forse lo farà invece una decisione che arriva da un tribunale catalano. Il mondo è in piena crisi Covid. Nessuna luce all'orizzonte. Lo dimostra il dato diffuso sul numero di nuovi casi registrato in 24 ore. È il nuovo record 230.370 persone che si sono scoperte malate. Oltre 142.000 dei nuovi contagi riguardano le Americhe, ma ben 18.000 ancora l'Europa. Negli Stati Uniti ormai i numeri dicono che un americano su 100 risulta positivo al coronavirus e che il tasso di incremento in stati come la Florida, l'Arizona o la California è ormai paragonabile a quello toccato da New York o dal New Jersey nei giorni più neri della primavera scorsa. Il Messico, toccando le 35.000 vittime, ha superato l'Italia e adesso è il quarto paese al mondo per numero di decessi, dopo Stati Uniti, Brasile e Regno Unito, particolarmente colpita resta la capitale, città del Messico, dove le autorità pensano di ricorrere a un sistema di telecamere per controllare l'utilizzo delle mascherine da parte della popolazione. Misure dracognane per contrastare il Covid che a volte vengono contestate, come è successo in Catalogna. Le autorità locali avevano deciso ieri il ritorno al lockdown per otto comuni della provincia di Segria, dove un nuovo focolaio rischia di sfuggire al controllo. Ma l'Alta Corte di Giustizia della Catalogna ha bloccato il provvedimento, definendolo sproporzionato, probabile il ricorso. E intanto l'ONG britannica Save the Children lancia un nuovo allarme sulla generazione perduta del Covid. Quasi 10 milioni di bambini in tutto il mondo rischiano di non tornare mai più nelle aule che hanno dovuto abbandonare a causa della pandemia. La fame li spingerà invece a cercare di entrare al più presto possibile nel mondo del lavoro. Più le bambine che i bambini. rendendo vani in paesi come l'Afghanistan, l'Yemen e tutta l'Africa centrale decenni di sforzi per sottrarli a una vita di ignoranza e povertà. Adesso vi facciamo vedere delle immagini che sono sicuramente storiche. Riguardano il nostro Presidente della Repubblica, Mattarella, in uno storico incontro con il suo omologo sloveno, l'ex maresciallo Paola. I due capi di Stato in mattinata hanno reso omaggio alla foiba di Bassovizza dove per mano dei partigiani dell'ex maresciallo Tito venne ucciso un numero ancora imprecisato di italiani al monumento che ricorda la fucilazione di quattro antifascisti sloveni nel 1930. Mattarella e Paola si sono tenuti per mano per un minuto per sottolineare la volontà di proseguire insieme sul cammino della riconciliazione. Poi non si sono fermati qui, hanno firmato un memorandum d'intesa per la restituzione alla comunità slovena in Italia del Narodini Dom, la casa del popolo incendiata dai fascisti il 13 luglio di cento anni fa. La storia non si cancella, ha detto Mattarella, e il dolore non si dimentica. La memoria ci aiuta a costruire insieme un futuro basato anzitutto sul rispetto delle persone. Ci fermiamo, lo facciamo solo per la pubblicità. Naturalmente c'è tutta la pagina sportiva, è stato un weekend molto intenso, dunque tanto da raccontare. tra poco. Di nuovo insieme, dunque cominciamo con il campionato di calcio. Manca l'ultimo atto per completare la 32esima giornata. Si tratta della sfida molto importante in casa nerazzurra tra Torino e Inter. Poi avremo un quadro più definitivo di quel che è stato nel weekend. Innanzitutto, il fatto che si sia giocato il Dermio Emiliano tra Parma e Bologna, lo sapete, il primo caso di positività per un membro dello staff della squadra di D'Aversa, eppure la partita è andata, come da protocollo, poi regolarmente, si è giocata regolarmente. E poi la sfida più attesa, quella che valeva di più, quella tra Napoli e Milan, le emozioni più forti, ma anche forse i rimpianti più grandi per entrambe. Un turno all'insegna di Parigi, figli di una certa stanchezza psicofisica dovuta ai tanti impegni ravvicinati, ma anche di inevitabili logiche di classifica. Il 2-2 del San Paolo tra Napoli e Milan ha soddisfatto lo spettatore a casa, un po' meno i due tecnici amici Gattuso e Pioli che cercavano l'attacco al quinto posto blindato sinora dalla Roma. La serata no di Donna Roma ha permesso ai partenopei di ribaltare l'iniziale vantaggio rosso-nero di Hernandez, ma dopo l'1-2 firmato di Lorenzo e Mertens, un rigore non evidentissimo trasformato da Kessi ha messo in sigillo a questo pareggio che non muove più di tanto la classifica delle due squadre. Nella corsa che dovrà assegnare lo scudetto invece, stasera l'Inter cercherà il pronto riscatto nel match casalingo contro un Torino risucchiato su malgrado nella lotta salvezza. Conte alle prese con il recupero dell'acciaccato Lukaku che dovrebbe accomodarsi in panchina a tutto vantaggio del cileno Sanchez. Il successo permetterebbe ai nerazzurri di agganciare la Lazio al secondo posto, ma ciò sarà possibile solo applicando rigidamente le teorie del tecnico. È un periodo dove comunque appena c'è un piccolo errore veniamo puniti. Però, ripeto per me, la strada è quella giusta, quella del gioco, quella di giocare a ritmi alti, quella di pressare, di portare tanti uomini nella fase offensiva. Senza dubbio più intensa la lotta salvezza con sei squadre racchiuse in appena sette punti. Importante in tal senso il successo della Sampdoria, brava a interrompere la serie positiva di un udonese passate in vantaggio col solito lasagna grazie alle reti di Quagliarella, Bonazzoli e Gabbiadini. Con questo successo gli uomini di Ranieri hanno raggiunto proprio i friulani alla rassicurante quota di 35 punti. Distanti una sola lunghezza della Fiorentina che ha rischiato grosso col Verona. I veneti erano passati in vantaggio con Faraoni, i viola hanno agguantato il pareggio in pieno recupero grazie ai suoi due neo entrati. Chiesa ha firmato l'assist per il gol di Putrona. Tre punti importanti invece per il Genoa che grazie al nono sigillo stagionale di Goran Pande e alla perfetta punizione di Schoen ha piegato l'oramai rassegnata Spal lasciando il terzultimo posto a un Lecce uscito dal terreno del Cagliari con non pochi rimpianti per uno 0-0 che non rispecchia di certo i valori emersi in campo. Nel derby emiliano di metà classifica invece il Bologna ha dissipato un vantaggio di due reti maturato tiro di Soriano facendosi raggiungere in pieno recupero dal Parma che nello spazio di due minuti ha trovato l'insperato pareggio grazie a Kurtic e ad Inglese. Si gioca ma si discute già di quel che sarà la prossima stagione. Poco fa il presidente dell'Aurentis del Napoli ha detto riguardo all'ipotesi che si ricominci il prossimo campionato il 12 settembre è un'assurdità c'è la finestra per le nazionali quando si alleneranno i nostri calciatori spero che si inizi almeno fino a fine mese. Per quel che riguarda invece la stagione internazionale c'è una certezza in più arrivata dalla decisione del Tribunale arbitrale dal TAS riguarda il Manchester City lo sapete aveva subito un'esclusione clamorosa dalla prossima Champions League invece gli inglesi ci saranno così il Tribunale arbitrale dello sport di Rosanna ha deciso la condanna della UEFA era di due anni di sospensione per violazione delle regole del fair play finanziario poiché il club inglese non ha mascherato i suoi contratti di sponsorizzazione spiega la TAS potrà partecipare alle prossime coppe europee con questa motivazione il Tribunale ha tramutato la sospensione dalle competizioni europee in una multa di 10 milioni di euro vale appena ricordare che in questa anomala edizione 2020 della Champions League il City di Guardiola potrebbe essere l'avversario della Juventus se dovesse eliminare il Real Madrid già sconfitto l'andata e se ovviamente la Juve dovesse estromettere il Lione a sua volta e poi parliamo anche del weekend dei motori naturalmente un weekend da dimenticare dall'inizio alla fine per le Ferrari meno di un chilometro di gara le colpe prese dalle Clerc per quel fuoco amico in partenza ma non cambia la sostanza delle due rosse costrette a partire dalle retrovie mai competitive e in vista del prossimo Gran Premio e dello Stradominio con la prima doppietta stagionale delle Mercedes occorre quantomeno provare a correre ai ripari sono due le cose che il Gran Premio di Stiria il secondo della stagione ha detto con chiarezza prima la crisi della Ferrari è più profonda di quello che si pensasse seconda che Lewis Hamilton è uno dei più grandi piloti di tutti i tempi ha ottenuto la vittoria numero 95 portandosi ad appena sei lunghezze dal record di Schumacher guidando in maniera perfetta dal primo all'ultimo giro festeggiando con il pugno al cielo ricordando così la sua lotta contro il razzismo ma in carriera l'inglese ha sbagliato due volte di seguito nemmeno stavolta una certezza assoluta esattamente quella che manca alla Ferrari il cui passato si è ridotto un errore strategico il presente è un fastidio il futuro a un gigantesco punto interrogativo ad attestarlo è il commento del responsabile tecnico della rossa Mattia Binotto che ha messo dopo l'ennesima gara sbagliata dobbiamo capire dove è il problema e siamo aperti anche a rivedere tutto il progetto affermazioni sconcertanti perché non sapere se la causa dei guai è la poca potenza del motore o la scarsa aderenza o entrambe arrivare a mettere in discussione il progetto stesso da cui è nata la nuova Ferrari significa rimettere tutto in discussione significa procedere a vista a ingigantire problemi c'è stato anche l'errore in partenza di Leclerc finito addosso al compagno di Squadra Fettel un remake di quanto avvenuto in Brasile nella passata stagione stavolta a parti invertite un errore grave certo peraltro riconosciuto dallo stesso Leclerc con responsabilità che ha impedito di capire se le modifiche apportate riguardanti l'aerodinamica erano giuste nessuna risposta la bussola continua a girare a vuoto a complicare il tutto c'è anche il calendario incalzante domenica si replica in Ungheria lì un anno fa Fettel e Leclerc arrivarono al traguardo un minuto dopo Hamilton complicato fare peggio ma non impossibile e saremo a vedere ci fermiamo vi ricordo come sempre l'informazione che torna alle 20 con il telegiornale noi se volete domani alle 13.30 grazie e una buona giornata a tutti voi grazie